Nella tarda serata di ieri in via Madonna del Mondo a Salerno, un bambino di appena 13 anni ha perso la vita. Una tragedia tremenda che ha colpito al cuore la città. Secondo quanto ricostruito, è stato fatale il volo dal settimo piano dell'abitazione dove il ragazzino viveva. Lo schiando non gli ha lasciato alcuno scampo. Inutili purtroppo i soccorsi sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche la polizia per tutti i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze dei familiari per ricostruire la tragedia. Al vaio degli agenti quindi la dinamica di un episodio da chiarire che però spezza davvero il cuore. L'unica cosa certa in questo momento è la terribile tragedia che ha sconvolto un intero quartiere, un'intera città che ha visto un ragazzino di appena 13 anni perdere la vita in un modo davvero atroce.